Levantesport.tv 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 La prima metà del lavoro l'abbiamo portata a termine. Adesso cercheremo di migliorare anche per quanto riguarda la fase realizzativa cercando così di non perdere comunque le qualità che abbiamo espresso fino adesso che sono comunque una difesa che tiene e una squadra che rimane comunque attaccata alla partita indipendentemente dall'avversario e quindi riusciamo sempre perlomeno a giocarcela nell'ultimo tempo. Levantesport.tv Levantesport.tv Siamo contenti perché ce la giochiamo quindi il lavoro sta pagando. Paghiamo un po' di esperienza perché comunque siamo molto giovani con tanti diciottenni alla prima esperienza per cui diciamo che ci sta che poi abbiamo alla fine qualche giocatore di esperienza nelle altre squadre fa la differenza però continuiamo a migliorare questo è un buon segnale. Tu hai preso in mano il Chiavari la prima squadra ma anche sappiamo formazioni giovanili l'estate scorsa alla fine dell'estate scorsa che ambiente hai trovato e anche che ragazzi hai trovato anche da portare in prima squadra a che punto erano diciamo del loro percorso proprio atletico. Portare i giovani in prima squadra è sempre un discorso abbastanza delicato perché troppo presto è controproducente e troppo tardi si perdono comunque dei passaggi importanti quindi bisognava un attimino trovare l'equilibrio giusto tra la prima squadra e il lavoro sul settore giovanile. Adesso abbiamo fatto un po' di scelte per adesso il gruppo che abbiamo individuato è questo lavoriamo intanto con il settore giovanile dietro per vedere poi di aggiungere qualche elemento magari l'anno prossimo. Tu alleni anche tra l'altro la formazione junior slander 20 con tanti ragazzi che poi giocano ovviamente anche in prima squadra e anche l'under 17 che poi disputa un campionato nazionale sappiamo essere anche molto impegnativo però il Chiavari negli ultimi anni ha sempre portato la squadra se non proprio in alcuni casi anche proprio alle finali scudetto dell'under 17 o comunque molto vicina quindi c'è evidentemente del materiale sul quale si può lavorare. Diciamo che la Liguria e Chiavari comunque sono nella tradizione della palla nuoto da sempre quindi c'è un nome da mantenere in alto c'è stato un pochino di si è perso un pochino di vista questo discorso del giovanile adesso sta cercando di riprenderlo a partire anche dai più piccolini. Ecco e avete anche numeri abbastanza incoraggianti perché sappiamo che poi per tirare fuori un po' la qualità dei ragazzi a volte si parte innanzitutto dalla quantità poi si magari c'è un po' di strematura. Ecco abbiamo il primo obiettivo di quest'anno era proprio sui ragazzi da 2000 in avanti diciamo rimpolpare un po' le fila perché c'era un attimino di carenza come numerica. Abbiamo lavorato per quello adesso è un lavoro che comunque si vedrà nel persiego negli anni non sicuramente a breve però diciamo quella parte lì la stiamo sistemando e stiamo lavorando con quello che nelle annate precedenti è rimasto però cerchiamo sempre di tirar fuori il massimo. E un impianto come quello di Largo Pessagno che è comunque un impianto moderno, nuovo e anche proprio in centro città aiuta per lavorare magari facendo anche un po' i paragoni delle tue esperienze del recente passato in altre piazze? No aiuta sicuramente ti ripeto la tradizione quella che comunque facilita un attimino le cose perché in realtà fuori dalla Liguria magari con spazi e mezzi a disposizione anche superiori non si riesce a lavorare come si riesce qui. Ecco io però provavo a pensare questo per esempio in piazze come Recco e Camogli la palanuoto è lo sport proprio cittadino perché sono paesi che insomma il Recco continua a vincere in lungo e in largo anche se ci sono problemi ancora alla piscina ovviamente sappiamo che al momento il Recco gioca a Sori. Il Camogli è un'altra realtà ma anche Bogliasco, anche Sori dove la palanuoto è un po' lo sport di riferimento. Adesso lavoro in una piazza come Chiaveri dove la palanuoto ha anche una storia recente, è vero e importante però ci sono anche altre discipline. C'è chiaramente la Virtus Entella di calcio che fa da traino però ecco voi per esempio dalla palanuoto qui vi trovate magari proprio nel reclutare i ragazzi anche un po' non voglio dire a scontrarvi ma sicuramente vivete la concorrenza anche di altre discipline. Il calcio diciamo che la fa da padrone comunque dappertutto quindi è un fattore comune per tutti la scelta tra il calcio e altri sport. Noi qua siamo per adesso siamo soddisfatti dei numeri che riusciamo a ottenere, comunque l'importante è portare i ragazzi o in piscina o in palestra comunque a fare un'attività e non lasciarli in giro a non fare niente tutto il giorno. Quello è l'aspetto più importante. Venendo proprio alla vostra prima squadra abbiamo detto ora siete terzultimi però insomma la zona salvezza tra l'altro fino a poche settimane fa eravate anche in zona salvezza poi anche il calendario vi è un po' ovviamente penalizzato però poi a giro il calendario dà una mano o penalizza. Siete a un solo punto dal Padova, a due dall'Imperia, a cinque dal Sori, tutte squadre che insomma il Sori e l'Imperia l'avete anche battuto, il Padova sarà la vostra prossima avversaria in casa. Insomma io credo che sia un obiettivo concreto per voi quello di poter evitare i play-out. Lavoriamo per quello, nel senso che il calendario è abbastanza neutro, nel senso che comunque gli scontri più o meno tra noi dirette concorrenti si equivalgono quindi starà a noi capitalizzare al massimo le partite in casa e poi cercare fuori casa di trovare qualche punto inaspettato. Ricordiamo che poi ripartirete con la terza giornata di ritorno a metà aprile e avete proprio subito il Padova quindi in tutto questo periodo di sosta c'è poco da fare, a questa partita bisogna pensare in maniera particolare. Si aspetta questo ritorno però abbiamo già avuto un periodo di stop lungo e siamo ripresentati, non abbiamo avuto grossi problemi. Adesso è un pochino più contenuta la sosta quindi dovremmo ripartire di nuovo concentrati con una partita in casa è sicuramente importante. Tra l'altro la vostra sosta invernale è durata quasi due mesi perché vi siete fermati tutti prima di Natale, poi a gennaio tutti fermi, dovevate riprendere i primi di febbraio e voi tra la partita a Bologna che è stata rinviata, poi quella col Brescia l'avete recuperata adesso, la squadra che si è fermata di più forse in tutta Italia. Insomma tutto sommato ne siete usciti abbastanza bene. No, la condizione fisica diciamo che per adesso va bene, i ragazzi comunque da quel punto di vista sono molto seri, molto volenterosi quindi non ci sono state grosse difficoltà a mantenere la concentrazione. Ecco non voglio per carità farti fare polemica però a gennaio sappiamo il campionato si era fermato perché alcuni giocatori andavano agli europei, ci sono gli stranieri anche in A2 e va bene. Adesso c'è questa nuova sosta perché già dovevate essere fermi questo sabato, poi c'è stato il recupero e va bene. Una sosta che doveva essere di fatto di quasi un mese ora, di un paio di settimane. Ci sono giocatori che vanno a fare il torneo di qualificazione olimpica in Canada, però in tutta la A2 credo siano francamente pochi. Dovrebbe essere uno. Sì ecco, si poteva anche giocare sabato prossimo forse, fermarsi un po' meno, magari finire anche una settimana prima a maggio in caso poi di play-out o play-off va bene, si gioca a giugno ci mancherebbe. Diciamo che è l'anno olimpico quindi ci sono state un po' di problematiche dei calendari. La federazione ha deciso di uniformare come soste a A1 e A2 per evitare poi i recuperi, i spostamenti e quant'altro. Quindi prendiamo attra la decisione e andiamo avanti. Adesso insomma avete un paio di settimane piene, certo durante il Pasqua magari vi fermerete qualche giorno e poi appunto occhio sul Padova. Le squadre coinvolte per evitare i play-out sono quelle, la classifica parla chiaro, secondo te l'ultimo posto sarà lotta tra Bergamo e Verona? Oppure insomma non credo che per l'ultimo posto ci siano altri problemi. I nomi sono quelli, adesso vedremo di levare il nostro il prima possibile. Ecco certo. Il Soli secondo te è raggiungibile, potrebbe essere coinvolto ancora per la lotta per evitare i play-out oppure pensi che la squadra di Ivaldi si sia già messa un po' più al sicuro? Comunque ha fatto un bel passo avanti, diciamo comunque punti, ha pareggiato con Brescia in casa, ha vinto sabato con Bologna in casa, quindi ha fatto dei punti che le altre squadre forse faranno fatica a fare, quindi un pochino di vantaggio sicuramente. Tra l'altro già con Ivaldi nello scorso il Soli nella seconda parte l'ha cresciuto molto, forse potrebbe anche essere… Potrebbe ripetersi. Potrebbe ripetersi. Invece l'altra liga, un'altra è l'Imperia, abbiamo detto, è una vostra diretta concorrente, una squadra che si viene dalla 1 ma è giovanissima anche l'Imperia, con un paio di giocatori di esperienza, è un allenatore come Zoran Mustur, che comunque è un tecnico sul quale evidentemente la società ha investito. Ma anche l'Imperia ha il stesso discorso, loro sono giovani, in casa stanno facendo bene e quindi anche loro hanno la possibilità di tirarsi fuori. Purtroppo siamo tutti Liguri, quindi qualcuno alla fine rimarrà coinvolto, però è il bello dello sport. Ecco, invece nella zona play-off c'è il quinto, che ormai devo dire di una squadra Liguri, che è una squadra genovese che ormai da anni, se non arriva tra le prime quattro, ci arriva un attimo fuori. È una bella realtà quella di Marco Paganuzzi, insomma trovano anche giocatori magari dalla vicina Bogliasco, da Sori, anche loro lanciano qualche giovane, hanno qualche bel senatore che sicuramente in A2 si fa sentire, secondo te può farcela rimanere tra le prime quattro? Adesso mi sembra che siano in un periodo positivo, hanno già passato il periodo di blackout perdendo due o tre partite di fila, quindi dovrebbero, se riescono a rimanere costanti, dovrebbero rimanere nelle prime quattro sicuramente. Sì, c'è da dire che mancano ancora poi nove giornate, se non sbaglio, sono tante comunque, sono due mesi pieni, abbondanti, può succedere ancora tutto il contrario di tutto. Direi, l'equilibrio quest'anno è particolarmente alto, quindi si vince, si perde con un gol, due gol di differenza, senza difficilmente il distacco è superiore, bisogna rimanere concentrati tutte le partite e giocarsene fino alla fine con chiunque. Ecco, i punteggi invece nel Girono del Sud mi sembra siano diversi, anche lì ovviamente i valori ci sono, come ci sono nel Girono del Nord, ci sono le squadre più attrezzate, chi meno, però, per esempio voi appunto siete una squadra che lotta per salvarsi, avete affrontato le due capoclassifiche, avete perso di due gol e ve le siete giocate fino alla fine. Nel Girono del Sud chi affronta la Lazio, che è prima dall'inizio, e soprattutto se è una squadra delle ultime posizioni, ci sono divari anche di dieci gol a volte, in questo Girono del Sud è un po' diverso.